Un buongiorno e ben ritrovati i nostri ascoltatori, sono Kettia Redia della Voce di Rovino, siamo negli studi di Delta Radio con Giorgia Fonsatti, delle relazioni esterne di Adriatic LNG e il direttore del Teatro Sociale Edoardo Bottacino. Buongiorno. 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 Nel nostro appuntamento con Adriatic LNG e con il suo impegno per il territorio oggi parliamo di teatro sociale, parliamo di cultura. La prima domanda è per lei direttore, due settimane fa avete presentato la nuova stagione del Teatro Sociale, l'avete presentata in grande stile, c'era anche Giorgia e l'abbiamo vista, cosa ci riserva questa edizione in pillole? È una stagione, quella del Teatro Sociale, veramente direi emozionante, una stagione ricca di titoli d'opera, sono otto opere con capolavori con Leotello, Scenier e l'inaugurazione con Madame Butterfly. Ma abbiamo cercato di costruire un cartellone a 360 gradi che possa quindi raccogliere sempre di più le esigenze del nostro pubblico. Prosa, lirica, musical, sinfonica con grandi artisti, penso a Beatrice Rana, Tom Kopman, la danza, teatro ragazzi, quindi insomma sono più di 70 tra le alzate di Siparo e gli eventi collaterali che ci accompagneranno quest'anno fino alla fine di maggio. Qual è il nome che fa cartellone, che fa campagne abbonamenti? Ce ne sono diversi a seconda del settore, però ce ne sono due secondo me nella lirica che sono Fabio Sartori che ritorna dopo il successo della Tosca, la città gli ha chiesto il bis ben due volte nelle due recite, abbiamo anche l'arrivo di Jessica Pratt in quella chicca che è Roberto Doverè, insomma soprano veramente acclamata in tutto il mondo per la lirica, ma penso anche alla sinfonica, Beatrice Rana, Tom Kopman, sono nomi stelle internazionali del concertismo, quindi sono nomi che sicuramente attireranno anche molto pubblico che viene da fuori dalla città di Rovito. Bene, intanto io la ringrazio direttore, ringrazio anche Giorgia, diamo spazio un po' alla musica, alla pubblicità, noi parleremo oggi di cultura, parleremo di teatro sociale che è un tempio della cultura per Rovigo e ci vediamo tra poco, ci sentiamo tra poco. Giorgia, anche quest'anno Adriatic LNG ha deciso di essere tra i partner del teatro sociale, di supportare questa stagione, quali sono le progettualità al centro della vostra collaborazione, cosa chiedete voi al teatro sociale? Ci siamo conosciuti con il teatro sociale lo scorso anno, quindi per la stagione teatrale 23-24 con un'iniziativa molto bella, in quanto abbiamo concretizzato un progetto di avviamento alla professione per sette giovani musicisti provenienti dal Conservatorio Venezia di Rovigo. Ovviamente selezionati previo un provino fatto da personale preposto e ben preparato per valutare questi ragazzi, che hanno avuto in questo modo la possibilità di toccare con mano quello che può essere una loro attività lavorativa futura e non soltanto un sogno legato all'amore per la musica. Poi siamo stati vicini al teatro anche nell'attività del teatro ragazzi, proponendo un'opera teatrale basata sulla favola di Pinocchio, dove abbiamo cercato di raggiungere attraverso i bambini di quinta elementare anche le loro famiglie, parlando del tema della sicurezza. Vista la bellissima esperienza dello scorso anno e cercando di valorizzare quello che è il tema della sostenibilità, parlando con il direttore artistico Botacin, abbiamo trovato stimolo nell'andare a sostenere il teatro anche quest'anno con un progetto che parla di economia circolare. È la valorizzazione di quelle che sono scenografie storiche, che ormai sicuramente impolverate e lasciate in dimenticatoio in qualche magazzino, che vengono invece rispolverate, riproposte, riadattate alle opere e quindi proposte a cartellone, nonché la produzione di ben quattro scenografie sulle otto opere messe in cartellone dal teatro sociale di Rovigo, prodotte dal laboratorio del teatro e quindi dalle nostre maestranze, che non vedranno la scena solo su Rovigo, ma anche su altri teatri importanti italiani. Quindi credo che andiamo in questo modo a raggiungere sia quello che è l'aspetto della cultura, l'aspetto dell'economia circolare, della sostenibilità e la valorizzazione, mi viene da dire, anche delle maestranze del nostro territorio. Sì, perché effettivamente, non dimentichiamolo, il teatro sociale ha una tradizione anche nella confezione, nella confezione dei costumi, nella confezione delle scenografie. Ci sono state anche mostre importanti e molto affascinanti su quello che è il passato anche della produzione del teatro sociale. Sì, amo dire in questo contesto che l'opera lirica è magia. È magia fatta da voci talentuose del soprano, piuttosto che di un bel basso, piuttosto che di un bel tenore. Sicuramente dall'orchestra che sa portare in scena una musica meravigliosa e non si parla mai però di chi lavora dietro le quinte, che lavora tanto, che sono le maestranze che ci propongono le scenografie, piuttosto che chi si occupa poi di abbigliare al meglio questi talenti. Bene, Bottacino, potremmo dire che uno dei segreti ottenuto dalla scorsa stagione del sociale è proprio la capacità di costruire una rete virtuosa tra i soggetti pubblici, i soggetti privati, cosa che non sarà facile per un direttore artistico. Come ha risposto il territorio? Il territorio ha risposto veramente molto bene. Sto proprio lavorando a uno studio dagli ultimi 15 anni su come ha risposto la città e quindi la parte pubblica, intesa anche come fondazioni bancarie e banche e soprattutto la parte privata. Quello che ne emerge è veramente un trend molto positivo nell'ultimo biennio da parte della parte privata, mentre sono calate la parte di finanziamenti relative alle banche, insomma con tutte le vicissitudini dei vari crack bancari, ne abbiamo sentito molto l'effetto. La cosa invece che a me ha stupito ma mi ha dato anche soddisfazione per il lavoro interpreso dal teatro in questo ultimo biennio è il rapporto con le imprese del territorio, in particolare quest'anno siamo veramente molto contenti perché con Giorgio abbiamo lanciato l'A, da LNG se ne sono aggiunte altre e poi una catena alla fine quando un'azienda vede l'altra. Quindi siamo, sì, è la chiave di successo. Adriatic LNG come diceva prima Edoardo è un po' stato pioniere dell'intervento del privato nella stagione teatrale, nel mantenere questo patrimonio che è il nostro teatro e Adriatic LNG Giorgio è da tempo e partner quindi del teatro sociale. Cosa vi ha portato a sostenere questa realtà locale così importante per tutta la provincia? Riteniamo che il teatro sociale di Rovigo sia il gioiello del nostro territorio, è un teatro accogliente, bello anche da un punto di vista proprio di ambientazione e come dicevo prima per la realizzazione di quella che è la magia che ci propongono le opere. Abbiamo poi trovato un giovanissimo direttore artistico che ci ha accompagnato con idee nuove che ci hanno conquistato e colpito perché è valorizzare il territorio. In questo progetto della stagione teatrale 24-25 dove parliamo di economia circolare tengo a sottolineare per esempio grazie proprio all'iniziativa e alla volontà del direttore artistico una collaborazione che rinasce con la fondazione La Fenice di Rovigo dove nell'opera Elisir d'Amore di Donizetti vedremo a Rovigo la scenografia nata proprio al teatro La Fenice. Quindi sarà come dire ancora più magica la serata assolutamente sì. Poi devo dire che attraverso soprattutto quello che è il teatro ragazzi abbiamo trovato uno strumento comunicativo nuovo e innovativo per arrivare ai giovani e trasmettere i valori che sono fondanti in Adriatica e l'NG e che fanno parte del nostro quotidiano e cerchiamo di portare a casa e di far portare a casa i nostri lavoratori. E quindi siamo arrivati ai bambini con il tema della sicurezza un tema difficile da condividere un tema difficile anche da far capire ai più piccoli ma grazie per esempio all'opera Pinocchio dove avevamo un grillo parlante bardato di tutti i dispositivi di protezione individuale. Siamo riusciti ad arrivare ai più piccoli trasmettendo messaggi importanti che saranno fondanti per il loro futuro per vivere una vita in sicurezza. Ebbene lei è il più giovane direttore artistico di un teatro di tradizione in Italia l'abbiamo raccontato quando l'anno scorso si è insediato qui a Rovigo come è stato quest'anno e come è un bilancio insomma di quest'anno di come è cresciuto di cosa ha incontrato. Il bilancio è per me sicuramente positivo lo spero anche per il teatro. Quello che abbiamo fatto è quello di far crescere questo teatro di farlo crescere con le persone che ci lavorano nel creare una squadra affiatata che va ad esplorare appunto anche i nuovi mondi quello delle sponsorizzazioni che va dalla ricerca di contributi diversi da quelli tradizionali. Questo per poter poi permettere la realizzazione di un cartellone sempre più vasto sempre più vicino al territorio penso anche alla prosa di quest'anno che abbiamo introdotto le due le doppie recite sugli artisti quali ospite che ho la Drusilla Foer quindi quei nomi che faranno sicuramente grande cassetta quindi un sono particolarmente contento di questo lavoro trasversale che è stato fatto da tutta la macchina teatrale insieme alla mia dirigente la dottoressa Micaela Pattaro. Non spoileriamo niente ma come sta andando la campagna abbonamenti? La campagna abbonamenti sta testando interesse ci sono molti nuovi abbonati che si sono aggiunti siamo nella fase del rinnovi degli abbonamenti a sette recite quindi quelli più corposi ma abbiamo molte richieste anche per gli abbonamenti mini segno anche che c'è interesse di persone di approcciarsi per la prima volta alla lirica e quindi magari sette opere cominciano ad essere impegnativi sul tre magari ci fanno un pensiero ma insomma la settimana prossima la chiusa della prima fase della campagna avremo anche un quadro definito i rinnovi ci sono stati praticamente tutti quindi molto bene. Questa è già una base di partenza fondamentale abbiamo parlato della prossima stagione teatrale ma anche dell'impegno mi fa di capire sia per alcuni temi che a voi sono cari Giorgia sia per i giovani che sono fondamentali anche per i vostri obiettivi giusti e premiante stare accanto a questi giovani. Assolutamente sì è un tema che Adriatica LNG ha abbracciato sin dal suo arrivo sul territorio noi siamo sempre stati vicini a quella che è la realtà dei giovani da un punto di vista culturale sportivo e anche sociale quindi parlando parlando nello specifico di teatro come ho anticipato durante la nostra chiacchierata di oggi lo scorso anno abbiamo sostenuto questo progetto di avviamento professionale dei giovani. È stato un progetto così bello e così entusiasmante che ha avuto anche una buona risposta da quelli che sono gli studenti del conservatorio che il teatro ha deciso di proseguire con questo progetto anche quest'anno quindi è a calendario i provini per questi nuovi musicisti. Che poi unisce appunto un grande patrimonio come il teatro sociale a un altrettanto grande patrimonio con il conservatorio Venezia di Rovigo che è un conservatorio di livello nazionale anzi internazionale. Quindi assolutamente sì infatti è voler premiare il territorio in tutto questo inutile andare a cercare bravi musicisti in altre città altre regioni quando già la nostra città è fioriera di ottimi giovani volonterosi e appassionati di musica. Poi devo dire che abbiamo anche pensato grazie al direttore artistico che ovviamente è il conoscitore per eccellenza dei nuovi musicisti che si approcciano talentuosi che si approcciano al mondo della musica a livello mi viene da dire nazionale e anche forse internazionale. Quindi abbiamo sostenuto sosterremo il concerto l'Olimpo di Beethoven che andrà in scena per Natale. Ah quindi a Natale avremo avremo novità anche per i giovani. È uno dei concerti che è inserito nell'ambito della stagione sinfonica il 14 il 13 di dicembre e la peculiarità di questo progetto pluriennale che stiamo portando avanti è sempre quella di avere un'alternanza tra un direttore un giovane direttore o un giovane pianista violinista perché stiamo facendo l'integrale dei concerti per strumento di Beethoven. Quest'anno abbiamo uno dei migliori allievi che è l'assistente personale di Donato Renzetti uno degli storici direttori italiani che debutta nel palcoscenico del sociale e comunque è uno dei ragazzi che sta debuttando quindi molto giovane insieme al violinista Giovanni Andrea Zanon violinista veneto invece che calca i palcoscenici di tutto il mondo. Quindi è uno scambio di valore tra giovani esordienti e giovani in carriera di cui all'NG si è fatta subito promotore del progetto e quindi è l'evento poi con cui farà gli auguri di Natale alla città e agli ospiti. Grazie ringraziamo il direttore artistico del teatro sociale Edoardo Bottacini e ringraziamo tanto Giorgia Fonsati delle relazioni esterne di Adriatico e l'NG e comprate gli abbonamenti al teatro sociale. Buona giornata. Buona giornata. Buona giornata.